Prenda la prossima uscita sulla destra. Benvenuto, agente Spooner. Benvenuti alla US Robotics. Siete nella hall del livello garage. Per favore, usate gli ascensori per accedere direttamente all'atrio principale. Grazie. Piacere di rivederti, giovanotto. Salve, dottore. Tutto quello che segue è un risultato di quello che vedi qui. C'è qualcosa che lei vorrebbe dirmi? Mi dispiace, le mie risposte sono limitate. Devi farmi le domande giuste. Perché ha chiamato me? Mi fido del tuo giudizio. Normalmente queste circostanze non richiederebbero un agente dell'omicidi. Ma le nostre interazioni non sono mai state del tutto normali. Non sei d'accordo? Assolutamente. C'è qualcosa che lei vorrebbe dirmi? Mi dispiace. Le mie risposte sono limitate. Devi farmi le domande giuste. Perché avrebbe dovuto uccidersi? Questa, agente, è la domanda giusta. Programma terminato. Programma terminato. Grazie a tutti.